Salve a tutti ragazzi, qui è Bordel Collette 42 che ritorna con l'apertura di questo team da collezione di Feraligator Prime Bene, cominciamo ragazzi Accidenti, questo è un pochino più duro di quello di prima Ok, ma niente è possibile per un collezionista come me Perfetto, qui c'è la locandina che sinceramente non è che serva più di tanto E la mettiamo via E qui c'è il team da collezione Ah, ne approfitto a dire che durante questo video vedremo anche le carte di coordinato E bene, qui c'è Typhlusion Prime, ovviamente versione promo Oh yeah E qui ci sono i tre pacchetti di Pokémon, carte collezionabili come abbiamo detto Ok, abbiamo ascesa dei regali, Ergo Soul Silver e Secret Wonders che stranamente mi è arrivato in inglese Io per principio non colleziono carte in inglese e quindi credo che questa la lascerò così com'è Magari vedrò se a qualcuno interessa Comunque, cominciamo con queste due Cominciamo con Ergo Soul Silver che è il pacchetto a tempo Ah sì, dai A proposito di questo pacchetto Eh A proposito di questo pacchetto è il pacchetto a tempo